amici buonasera un buon nocchiero è bravo quando fiuta il vento quando il vento cambia lui da buon nocchiero prende le contromisure e porta il vascello in salvo qualcuno invece non ha questa capacità quando uno si crede come dire indistruttibile si crede eterno e si crede che qualsiasi mossa lui faccia non può che essere quella giusta o perlomeno quella che lui crede di continuare a imporre non è un buon nocchiero la sua nave sta andando sugli scogli anzi c'è già il naufragio lui è già in fase di naufragio i suoi 40 ladroni novello alibaballo stanno abbandonando anch'essi come topi che vanno e abbandonano la nave perché topi erano e topi rimangono se si fosse trattato con l'ultima mossa vergognosa se fosse trovata un tavolo di poker lo avrebbero sparato l'avrebbero impiccato perché una cosa è come dire bleffare il bleff è ammesso nel poker si tratta semplicemente di inculcare termine che a lui piace moltissimo negli altri tre giocatori l'idea che avere una buona mano viceversa magari non si annulla questo è il bleff ma l'imbroglio il trucco non è ammesso non è ammesso da nessuna parte quindi lui come giocatore di poker è un perdente la faccia finita tanto lui non la farà finita la stanno facendo finita tutti gli stanno voltando tutti le spalle perché nessuno si è assunto il lonere di dichiarare che quella idiozia che è stata diciamo in maniera subdola sotto sotto messa in un provvedimento che riguarda miglioramenti dell'italia e che viceversa quel codicillo era salvare e salvaguardare solo ed esclusivamente la sua famiglia sapendo che comunque non non poteva farla franca ma come poteva allora vuol dire che ha perso la testa allora se lui ha perso la testa l'italia gli va tolta di mano ed un'altra cosa velocissima ve la siete rifatta come al solito con quelle categorie che non hanno forza contrattuale che non possano apparire nelle televisioni per potere come dire ribattere controbattere e lamentarsi i pensionati voi avete ridotto quel miserrimo incremento annuale che poteva essere per tanti per tantissimi pensionati non il superfluo come credite caro tremonti ma anche quel pochissimo era l'essenziale voi avete tolto l'essenziale ai pensionati non il superfluo vi dovete vergognare fatela finita ci avete veramente rotto le scatole uso un eufemismo ma vorrei tanto dirvi ci avete rotto i coglioni arrivederci